I principali obiettivi che si intesi raggiungere con l'esercitazione dell'Unione Europea organizzata dal European External Action Service denominata Multiliter 2014 e i risultati conseguiti in quasi un mese di attività sono stati illustrati ai giornalisti e ai diversi ospiti militari e civili durante un convegno svoltosi a Centocelle nella sede dell'aeroporto Francesco Baracca. Nel suo intervento di saluto il generale di Corpo d'Armata Marco Bertolini, comandante del comando di Vertice Interforze, ha parlato dell'importanza di riuscire a snellire il processo decisionale e rendere di fatto l'Unione Europea in grado di rispondere alle crisi e ai conflitti grazie all'integrazione delle funzioni operative. Nel quartier generale dell'Unione Europea in Italia oltre 200 elementi si sono addestrati ipotizzando scenari di crisi immaginari in cui si è dovuto intervenire fast track, ossia con modalità d'urgenza, mettendo in campo tutte le forze disponibili applicando il metodo del comprehensive approach per il conseguimento dell'obiettivo in aree di importanza strategica non solo militare ma anche civile. Una pianificazione parallela con Roma e Leopoldsburg in Belgio dove ha sede un comando proiettabile e con Bruxelles dove si è testata la programmazione e la capacità operativa della componente civile. Al vertice del comando italiano dell'esercitazione è l'ammigaglio Alessandro Pigoli che abbiamo intervistato nei giorni scorsi. Questa prima di tutto è un'esitazione dell'Unione Europea. È la seconda esitazione di questa tipologia che intende coinvolgere tutti gli attori dell'Unione Europea che sono coinvolti in una crisi. Quindi non parliamo solo della dimensione militare, quella dove ci troviamo adesso, ma anche di una dimensione civile e della necessità di un coordinamento con le altre organizzazioni dell'Unione Europea. È qualcosa di complesso perché deve mettere a sistema sia il centro, ciò che succede a Bruxelles, con ciò che succede poi e che andrà a svilupparsi nelle aree di crisi. Questa esitazione è un'opportunità per testare prima di tutto il comando, perché è un comando normalmente dormiente e quindi qui nel giro di pochi giorni si deve passare da zero persone, ovvero un nucleo di sette persone, che sono quelli che sono residenti qui continuamente, ad arrivare fino a 230 persone nella sua struttura massima. È un problema, vuole dire, non solo logistico, è un problema di mettere a sistema le conoscenze e le capacità di persone che arrivano da altre organizzazioni. Grazie a tutti.